Poltronieri secondo corso, sezione in setticlavio, studio numero 22, chiave di contralto, tonalità di Re minore, tempo 6 ottavi, binario composto, andamento larghetto. Lo leggeremo con la semiminima col punto a 50 bpm. Re mi fa re la si do re la so fa mi fa la mi fa so fa mi re do fa mi si do re re do si la fa la si la sol la si la sol re do si la do so fa mi si do re do re do si la do la so fa mi re mi fa do la sol fa re do re mi re mi fa mi re do si la sol fa sol la re re mi fa la re sol do fa si mi la do re eee 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 eee